Dalle dichiarazioni di Deng Xiaoping, un passato leader cinese, contenute nel libro Voci di Primavera di Bette Baolord, di prossima lettura sul nostro canale YouTube. In carcere non venivamo privati della lotta di classe. I detenuti si dividevano in due categorie, politici e criminali comuni. I politici erano contro rivoluzionari come me, la feccia della feccia. I criminali comuni erano soltanto ladri, stupratori e assassini, tutti membri rispettabili della razza umana. Per esempio c'era un tale che aveva violentato quasi tutte le bambine del suo villaggio e ne avrebbe violentate altre se sua madre fosse riuscita a conservare il posto di giudice del distretto. Permettetemi di essere più preciso, sono sempre parole di Deng Xiaoping. Alcuni stupratori più sfortunati erano classificati anch'essi come criminali politici perché avevano avuto l'audacia di interferire con la brillante politica del presidente Mao, che consisteva nell'inviare i giovani a imparare dai contadini nelle campagne e in che modo interferivano? Beh, violentando le ragazze. A proposito dello stupro, un argomento di cui un cinese patriotico non parla mai a meno che i colpevoli siano i diavoli stranieri, mi sia permesso dare un consiglio. È meglio violentare il più tardi possibile. In base alla mia esperienza in carcere scoprì che gli stupratori catturati per primi erano stati giustiziati, quelli che erano stati presi un po' più tardi erano stati condannati all'ergastolo, quelli presi ancora un po' più tardi avevano beccato 25 anni e al termine della mia permanenza il numero degli stupratori era diventato tanto enorme che le condanne erano scese in media a tre anni. È superfluo aggiungere che gli stupratori altolocati e quelli che avevano parenti importanti potevano continuare a fare il loro comodo quanto volevano.